Musica 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 Buongiorno a tutti i ragazzi sono Shogam01 In questo nuovo video conto cui Patraship Di Antonio Di Francesco Ok iniziamo Patraship Musica Musica Tutto su twitter dalle tendenze ed una stag rivolgente sento quasi nonppresidente anche se il Trump basecontinente il Newcomb tuini mostro una storia, una parola, gli anni, i cuori, commenti, o per domande, modellare la mano e quincere, non darti un attimo il tit in freeze, non spoilerare, non partere la ship, 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 blog diranno è cilè siamo in friendzone web quindi sono clickbait e tutti che non si date dopo funziona tutto spiano dico maria dammi una mano ritengo chetano o no non è da se ti vuoi ricorda che ci sei tu datti un attimo è titi in freeze da uno spoiler qui perde la ship da di un attimo là ti tym freeze nuant spoiler qui parte la ship 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 qui parte la ship 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 Sip, 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 sip! Cupate la ship! Svvvvvvvv... Fuori te la ship! Fai, li da, Fai, vi avviная, Salve una leggea Duele rare un'idea un attimo di team freeze non spoilerare di parte la ship un attimo di team freeze non spoilerare parte la ship 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 shep Perochie shep 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 mi pare la ship polink tu che chi della ship qui come vedete vi ho accontentato scrivetemi altri canzoni affari e io le porterò arrivederci